Quante volte sono stati rotti gli specchi stradali alla scorciatoia ciclabile che da Brondolo porta al parco commerciale? Tante e ogni volta che vengono sostituiti c'è sempre qualcuno che li prende di mira fino a distruggerli. Non sono molti i punti della città soggetti a vandalismo o all'abbandono dei rifiuti. Sono sempre gli stessi. Gli abbandoni degli ingombranti interessano sempre le stesse aree e gli atti di vandalismo sono sempre gli stessi ad essere segnalati. Sarebbe quindi lecito pensare a fototrappole sistemate almeno nei luoghi dove con più frequenza si manifestano situazioni che danneggiano la collettività. La prima cosa che si pensa quando avviene un reato è di controllare se ci siano telecamere nei pressi che abbiano potuto inquadrare l'area interessata. Spesso si finisce col cercare tra i sistemi di videosorveglianza dei privati. In caso di incidente stradale i filmati della Dash Cam possono risultare determinanti per capire la responsabilità di un sinistro ad esempio. L'occhio digitale dà una testimonianza oggettiva dell'accaduto ma si continua ad essere resti alla sua applicazione. La videosorveglianza di una zona dovrebbe diventare un deterrente per chi intenda commettere un reato e dovrebbe di conseguenza rendere più sicura la città. certo che il sistema ha un costo come lo ha pulire le panchine dai graffiti, sostituire gli specchi rotti, cambiare il vetro infranto o ancora recuperare la panchina gettata nell'usenzo. Grazie alla videosorveglianza che permette di individuare e riconoscere due faci norosi in una curva da migliaia di persone i colpevoli di questi reati possono essere individuati come già successo, quindi perché non potenziare il suo utilizzo? Siamo nello studio del servizio Nordest 2.0 e vogliamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizzi, in particolare su Superbonus, gli interventi prevalentemente condominali di efficientamento energetico. Superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su Superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, servizi Nordest 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.